cecov il punto esclamativo la notte prima di natale jefim fomic perecladin segretario di collegio si caricò impermalito e persino offeso spicciati demonio luggì con ira contro la moglie allorché questa domandò perché fosse così accigliato il fatto è che gli era appena tornato da una serata dove erano state dette molte cose sgradevoli ed offensive per lui da prima saranno messi a parlare dei vantaggi dell'istruzione in genere poi inavvertitamente erano passati al grado culturale dei signori impiegati a qual proposito erano state formulate molte lamentele rimproveri e perfino delisioni circa il suo basso livello e quindi come usa in tutte le brigate russe dagli argomenti generali erano passati ai casi personali prendiamo per esempio non fosse che voi jefim fomic si era rivolto a perecladin un giovinetto voi occupate un posto decoroso ma che istruzione avete ricevuto nessuna né da noi si esige istruzione aveva risposto con dolcezza perecladin scrivi correttamente ed ecco tutto dove mai imparaste a scrivere correttamente mi ci abituai in 40 anni di servizio ci si può far la mano certo sul principio era difficile facevo degli sbagli ma poi mi abituai e non c'è male e i segni di interpunzione anche per i segni di interpunzione non c'è male ricolloco correttamente si confuse giovinetto ma l'abitudine è tutt'altra cosa dall'istruzione non basta che i segni di interpunzione riponiate correttamente non basta bisogna porli consapevolmente voi mettete una virgola e dovete aver coscienza del perché la mettete sì signore e questa vostra ortografia incosciente di carattere riflesso non val nemmeno un centesimo è produzione meccanica e nulla più perecladin aveva taciuto e perfino sorriso ma suetamente il giovinetto era figlio di un consigliere di stato e aveva diritto lui stesso al grado della decima classe ma adesso coricandosi e gli sarà fatto tutto sdegno e rabbia ho servito per 40 anni pensava e nessuno mai mi ha dato dell'imbecilla e lì guarda un po che critici si sono trovati incoscientemente in modo riflesso produzione meccanica che il diavolo ti porti ma io forse ci capisco anche più di te per quanto non sia stato nelle tue università dopo aver mentalmente riversato sul critico tutte le contumeli a lui note ed essersi scaldato sotto le coperte perecladin cominciò a calmarsi io so capisco pensava addormentandosi non metterò i due punti là dove ci vuole la virgola dunque sono consapevole capisco sì proprio così giovanotto prima bisogna vivere un poco far servizio un poco e solo poi giudicare i vecchi negli occhi chiusi di perecladin che si stava addormentando attraverso una massa di scure nuvole sorridenti passò a volo come una meteora una virgola infocata dopo di essa un'altra una terza e ben presto tutto lo sfondo buio illuminato che si stendeva davanti alla sua immaginazione si coprì di fitte schiere di virgole volanti prendiamo magari queste virgole pensava perecladin sentendo le sue membra dolcemente intorpiglirsi a causa del sonno sopravveniente io le capisco benissimo per ciascuna posso trovare il posto se vuoi e consapevolmente e non a casaccio esaminami e vedrai le virgole si mettono in vari posti dove occorre e anche dove non occorre quanto più imbrogliata riesce la carta tante più virgole ci vogliono si mettono davanti a il quale e davanti al che se nella carta si devono numerare degli impiegati ciascuno di essi va separato con una virgola lo so le virgole dorate presero a girare e fuggirono in disparte al posto loro giunsero a volo dei punti infuocati e il punto si colloca alla fine della carta dove è necessario fare una grande pausa gettare un'occhiata all'ascoltatore la pure ci vuole il punto affinché il segretario quando leggerà non resti senza saliva e nessun altro posto si mette il punto tornano a piombare le virgole si mescolano coi punti turbinano e precladine vede tutta una schiera di punti e virgole e di due punti conosco anche questi e gli pensa dove la virgola non basta e il punto è di troppo la ci vuole il punto e virgola davanti al ma e al conseguentemente metto sempre il punto e virgola e bene i due punti si mettono dopo le parole abbiamo stabilito abbiamo deciso i punti e virgola e i due punti si spensero venne la volta dei punti interrogativi questi balzarono fuori dalle nuvole e si misero a ballare il can can che rarità il punto interrogativo ma fossero anche mille per tutti troverai il posto si collocano sempre quando c'è da fare una richiesta opponiamo informarsi di un documento dove è stato riportato il residuo delle somme per il tale anno oppure non riterrebbe possibile la direzione di polizia che la detta ivanovna eccetera i punti interrogativi presero ad accennare in segno di approvazione coi loro uncini e istantaneamente come a un comando si allungarono in punti esclamativi questo segno di interpunzione nelle lettere si colloca spesso mi aggrazo signore punto esclamativo oppure eccellenza padre benefattore ma nelle carte quando i punti interrogativi si allungarono anche più e si fermarono in attesa nelle carte si mettono quando cioè questo come sarebbe in realtà quando mai si mettono nelle carte un momento dio fammi ricordare precladin aprì gli occhi e si girò sull'altro fianco ma non fece in tempo a richiudere gli occhi che sul fondo oscuro comparvero nuovamente i punti esclamativi un diavolo riporti quando mai bisogna metterli pensò cercando di scacciare dalla sua immaginazione i non richiesti ospiti possibile che l'abbia dimenticato o l'ho dimenticato oppure non ne ho mai messi precladin prese a rammentarsi il contenuto di tutte le carte che gli aveva scritto durante i 40 anni del suo servizio ma per quanto pensasse per quanto corrugasse la fronte non trovò nel suo passato nemmeno un punto esclamativo che disdetta ho scritto per 40 anni e neppure una volta ho collocato un punto esclamativo ma quando dunque si colloca quel diavolo lungo di dietro la fila degli infuocati punti esclamativi si mostrò il grugno perfidamente ridente del giovane critico gli stessi punti sorrisero e si fusero in un solo grande punto esclamativo perecladin scosse il capo e aprì gli occhi il diavolo sa quel che è pensò domani bisogna alzarsi per il mattutino e a me non esce di capo questa diavoleria ma quando mai si mette ecco ti l'abitudine ecco come ti sei fatto la mano in 40 anni nemmeno un punto esclamativo perecladin si fece il segno di croce e chiuse gli occhi ma subito li riaprì sul fondo oscuro stava tuttora il grosso punto esclamativo a questo modo non ti addormenterai in tutta la notte marfuscia si rivolse a sua moglie che spesso si vantava con lui di aver terminato i corsi in collegio non sai tu anima mia quando si colloca nelle carte il punto esclamativo e come non saperlo non per nulla studiai sette anni in collegio so a memoria tutta la grammatica questo segno si colloca nelle apostrofi nelle esclamazioni e nelle espressioni di entusiasmo di sdegno di gioia di collera e di altri sentimenti ah così pensò perecladin entusiasmo sdegno gioia collera e altri sentimenti il segretario di collegio si fece pensoso per 40 anni aveva scritto carte ne aveva scritto delle migliaia decine di migliaia ma non ricordava nemmeno un rigo che esprimesse entusiasmo sdegno o qualcosa del genere e gli altri sentimenti pensava ma forse che nelle carte sono necessari i sentimenti può scriverle anche una persona insensibile il grugno del giovane critico tornò ad affacciarsi di dietro al punto infuocato e sorrise perfidamente perecladin si sollevò a sedere sul letto la testa gli doleva sulla fronte gli era spuntato un sudore freddo in un canto ardeva tenue e carezzevole il lumino dell'icona i mobili avevano un'aria festiva linda da ogni cosa addirittura spirava calore e presenza ad una mano femminile ma il povero impiegatuccio sentiva freddo sconforto come se si fosse ammalato di tifo il punto esclamativo non si drittava più nei suoi occhi chiusi ma davanti a lui nella camera presso la specchiera della moglie e gli ammiccava beffardamente macchina scrivente macchina sussurrava il fantasma soffiando sull'impiegato un freddo secco pezzo di legno insensibile l'impiegato si coprì con la coperta ma anche sotto la coperta vide il fantasma appoggiò il viso alla spalla della moglie e anche di dietro quella spalla spuntava la stessa cosa tutta la notte si tormentò il povero perecladine ma anche di giorno il fantasma non lo lasciò egli lo vedeva dappertutto negli stivali che infilava nel piattino del tè nella croce di Stalinslao e altri sentimenti pensava è vero che non ci fu mai alcun sentimento ora andrò dai superiori a metter la firma forse che ciò si fa con sentimento così a casaccio macchina da fargli auguri quando perecladine uscì in strada e chiamò una vettura gli parve che il luogo della vettura gli rotolasse incontro il punto esclamativo giunto nell'anticamera del superiore invece dello svizzero vide quello stesso segno e tutto ciò gli parlava di entusiasmo di stegno di collera il portapenne col pennino aveva pure l'aspetto di un punto esclamativo perecladine lo prese intinse il pennino nell'inchiostro e firmò segretario di collegio Jefim perecladine tre punti esclamativi e collocando questi tre segni egli provava entusiasmo indignazione gioia e ribolliva di collera to questo to questo mormorava premendo sul pennino il segno infucato fu pago e scomparve 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 e scomparve